Il titolo classici stereotipi vuole essere innanzitutto una provocazione. Una provocazione perché si possa puntare l'attenzione sull'origine, sulla radice di questi stereotipi che dall'antichità fino ad oggi hanno segnato la storia della letteratura, dall'antichità classica fino ai contemporanei. Infatti abbiamo preso in considerazione passi dall'opera di Plauto, Terenzio, Shakespeare, Bufalino fino al giornalista e saggista Bartezzachi proprio per cogliere quei momenti in cui lo stereotipo di genere, e mi riferisco in maniera particolare al modo come la donna viene vista secondo il punto di vista maschile e patriarcale, a partire da una commedia oppure da un giambo come come la satira contro le donne di Semonide e di Amorgo che agisce nel VII secolo a.C. Ecco, classici perché? Perché i testi ci permettono di ritornare al passato, di riflettere e di fare dei confronti con l'attualità. Classico spesso viene usato con varie valenze, ecco, classico nel senso di recupero del passato ma anche di ciò che purtroppo è scontato nel momento in cui andiamo ad affibbiare uno stereotipo alla donna. Ogni anno all'Isola Eoli e in particolare a Stromboli si celebra il Festival del Teatro Eco-Logico. È un teatro che evita l'uso di strumenti che possano amplificare le voci in maniera artificiale, le luci sono quelle offerte dalla natura. Ebbene, a partire da questo spunto ho voluto eliminare ogni scenografia per approfittare delle scenografie che Cicli ci offre. Ecco, e di conseguenza i ragazzi reciteranno senza far uso di microfoni e proprio al tramonto del sole noi concluderemo con lo spettacolo. Questo è il secondo anno che portiamo avanti un progetto sempre sperimentale, ovviamente di laboratorio teatrale, a partire dai classici. E ho visto la partecipazione, l'entusiasmo, ecco, crescere nel tempo e come se i ragazzi si fossero affezionati. Ecco, quello che penso possa diventare una tradizione nel nostro liceo. Cataudella da diversi anni ha, diciamo, ha recuperato la tradizione del teatro amatoriale in dialetto siciliano. Da due anni, e questo è il secondo anno, abbiamo anche cominciato a lavorare sui classici greci, ma non solo greci, che sono anch'esse poi parte della nostra tradizione, della nostra identità culturale. Quest'anno viene rappresentata una pièce teatrale tratta da un'elaborazione di diversi autori antichi e moderni, in un contesto, peraltro, molto bello della città, appunto, che è il recuperato Chiostro del Carmine. E l'altra caratteristica della messa in scena di questa sera è che si tratta, diciamo così, di un teatro naturale, ecologico, dove non utilizzeremo alcun ritrovato della nuova tecnologia, non inquineremo, non utilizzeremo luce artificiale, ma riproporremo, così come facevano gli antichi greci, gli strumenti che la natura ci ha dato, a partire da questa bellissima, grandiosa luminosità della nostra terra, per offrire, per far vedere alla città tutta, alla nostra comunità cittadina, il grande lavoro che il laboratorio, appunto, di teatro classico, fatto da questi ragazzi molto bravi, ha portato avanti per tutto l'anno scolastico.